buonasera massimo polidoro buonasera negli ultimi mesi si è tornati a parlare di ufo quello che una volta si chiamavano i dischi volanti però questa volta non si tratta di avvistamenti di curiosi e di vigili notturne ma di filmati girati dalla marina militare degli stati uniti di cosa si tratta ci sono dei video ne possiamo vedere qui un paio sono girati appunto in bianco e nero dalle videocamere presenti sui jet della marina e che hanno ripreso questi oggetti che vediamo al centro dello schermo qui in basso vediamo delle nuvole che corrono queste sono le nuvole sotto gli aerei e l'aereo tiene fissa la telecamera su questi oggetti che non si sa che cosa siano ma senza la sigla ufo significa oggetti volanti non identificati non è che si pensa che siano extraterrestri questa volta questa sigla è sempre stata associata proprio all'idea del disco volante dell'extraterrestre del marziano per questo motivo l'esercito americano ha smesso di utilizzarla per questo tipo di avvistamenti e usa una nuova sigla che è uap cioè fenomeni aerei non identificati che è la stessa identica cosa ma almeno non c'è questa immagine del visionario insomma che vede i dischi volanti e quindi militari i piloti sono più propensi magari a segnalare sempre che di questi avvistamenti ce ne siano stati parecchi sì e anche personaggi particolarmente in vista ne hanno parlato e li hanno presi sul serio lo stesso presidente ex presidente americano barack obama lo vediamo ha detto che quando è arrivato alla casa bianca una delle prime cose che ha chiesto è stata ma noi abbiamo in qualche base un disco volante gli extraterrestri che sono caduti gli hanno detto di no però ci sono questi video questi filmati che riprendono degli oggetti che non sappiamo identificare questo sì è una cosa curioso che anche il nuovo direttore della nasa il nelson ha detto che sono filmati da guardare con attenzione assolutamente per questo motivo al pentagono americano è stato chiesto proprio di produrre un rapporto per il congresso degli stati uniti in cui si discutono e si presentano i risultati delle indagini condotte sugli avvistamenti più interessanti e i risultati quali sono stati i risultati hanno preso in esame circa 120 di questi avvistamenti tra i più curiosi l'intelligence dice che una parte probabilmente sono dovuti a tecnologie sperimentali di potenze rivali come la cina e la russia di sicuro dicono non si tratta di tecnologie americane e se cosa si basano questi sospetti sul fatto che si è scoperto per esempio che sia la cina che la russia hanno sviluppato delle armi dei missili ipersonici una tecnologia dove gli stati uniti ancora sono indietro devono ancora arrivarci ma ipersonico significa che viaggia cinque volte la velocità del suono quindi supera i 6 mila chilometri orari mentre noi sappiamo che gli aeroplani vanno a 900 chilometri orari e c'è anche altro si c'è un pilota per esempio ryan graves che racconta di aver visto uno di questi oggetti restare in volo per 12 ore che sono moltissime se si pensa alla così l'autonomia che ha un aeroplano per esempio oppure un altro avvistamento di un oggetto che ricordava una grossa pastiglia come una come un aereo che in qualche modo si muoveva vicino agli aerei militari americani e poi sfrecciava via quelle velocità di cui abbiamo detto prima detto fra noi ma non è che tutto questo giunge a puntino per chiedere nuovi soldi per la ricerca a pensare male si fa peccato tra le varie ipotesi possibili è stata presa in considerazione anche la possibilità di oggetti provenienti dallo spazio da qualche parte beh sì le ipotesi sul tavolo non sono tantissime c'è naturalmente quella delle tecnologie di potenze rivali ci sono gli errori della valutazione degli strumenti stessi che sono sempre possibili c'è la possibilità di giochi politici per cui si dice una cosa volendo far intendere un'altra e poi c'è anche l'ipotesi extraterrestre effettivamente ma il pentagono non si sbilancia dice che non sono state trovate prove che si tratti di astronavi extraterrestri ma non lo esclude nemmeno è già un passo avanti però comunque lo sappiamo che per quanto riguarda la vita nello spazio ci sono tante ricerche in corso e gli astrofisici vedono sempre più lontano poi sappiamo che l'universo è pieno di zeppo di pianeti di ogni tipo quindi perché no la vita può essersi creata e voluta anche altrove e perché non come è venuto da noi con civiltà magari anche più avanzata quindi da un punto di vista della scienza non si può scludere però che siano già qui che siamo arrivati non ci sa bene come perché distanze pazzesche e che si vedono queste cosine e questo è il grande interrogativo in effetti le distanze sono enormi anche ammesso che qualcuno riesca a sviluppare tecnologie capaci di superare la velocità della luce per esempio c'è da capire come mai da più di 80 anni questi avvistamenti avvengono ma non c'è mai un incontro una manifestazione esplicita aspettiamo nuove notizie aspettiamo grazie massimo polidor